L'associazione Arco Consumatori si fa promotrice di un progetto che è stato tra l'altro accolto anche dalla regione. Comunque c'è una discussione in corso per quanto riguarda l'attenzione sulla messa in sicurezza delle acque del Gran Sasso dove precedentemente c'era un progetto di captazione dall'interno eccessivamente costoso e oneroso anche per l'impatto che avrebbe avuto. In realtà il vostro progetto oltre ad essere molto più economico è anche più compatibile con l'ambiente. Noi siamo due associazioni Arco Consumatori e Liberi Cittadini 5 Stelle che si occupano di questa problematica dal mese di aprile del 2017 con tavoli di lavoro, con esperti e quant'altro. In questi mesi abbiamo cercato di dare soluzioni alla regione, ai tecnici regionali e al loro tavolo di lavoro che loro hanno, questo tavolo emergenziale sulla messa in sicurezza del Gran Sasso. Abbiamo ritenuto che quella idea del dottor Quercio fosse alquanto discutibile, alquanto, come dico io a mio personalmente, alquanto folle di tornare a fare captazioni. Allora, più che altro bisogna mettere in sicurezza le due canne autostradali, come abbiamo dato anche questa soluzione, e rimettere in sicurezza il laboratorio da capo. Anche lì ci sono problematiche grandi perché ancora non sappiamo effettivamente com'è la situazione all'interno del laboratorio. Ma poi c'è un altro grande problema che è tutto il sistema idrico della provincia di Teramo, che purtroppo è obsoleto, ha una perdita del 44% d'acqua e in più ha delle retture e quant'altro con rischio di malattie infettive e quant'altro. Allora, tutto questo noi abbiamo detto che deve essere un progetto complessivo. Non si può solo mettere in sicurezza il laboratorio e le canne autostradali, ma vanno messe a posto le reti idriche di tutta la provincia di Teramo. Lo so che è un piano costoso, ma importante per la salvaguardia della salute. E in più abbiamo consigliato di recuperare delle acque, delle fonti d'acqua che noi abbiamo sul territorio, onde sostituire quegli 80-100 litri d'acqua che prendiamo direttamente dal laboratorio con acque di superficie. Abbiamo fatto un sopralluogo, l'avevamo fatto nel mese estivi, l'abbiamo rifatto 15 giorni fa, perché riteniamo che quell'acqua va recuperata, i costi per mettere a posto le tubature e quant'altro sono molto bassi, saremo dai 5-10 mila, non di più, e potremo recuperare quasi dai 50 ai 100 litri d'acqua. Questo ci aiuterebbe ad avere un'altra fonte di acqua disponibile anche in caso di emergenza.